E' scattata questa mattina all'alba una vasta operazione che ha visto la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Carabinieri in località Ciampa di Cavallo nel territorio del comune di La Mezzaterme. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli, perquisizioni, rastrellamenti, posti di blocchi e verifica gli esercizi commerciali alla ricerca di armi, droga e proventi di attività illecite. Il tutto condotto attraverso un articolato dispositivo di prevenzione, reso efficace e visibile anche grazie all'impiego di reparti speciali e di rinforzo inviati dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per rafforzare i servizi di controllo del territorio e di contrasto al crimine nel Catanzarese e con l'obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle zone più colpite da fenomeni di degrado.